Piantiamola di tagliare alberi è l'accorato appello che Italia Nostra lancia la sindaca di Bassano Elena Pavane a tutta la giunta dopo l'ennesimo taglio di piante per quanto necessario visto che si trattava di alberi malati e pericolosi in Marnian. In particolare il sudalizio Green del Bassanese parla di assenza di dialogo, condivisione, pianificazione e programmazione da parte dell'amministrazione nei confronti della cittadinanza e propongono l'istituzione di un'apposita consulta del verde che realizzerebbe un nuovo modello partecipativo di confronto, di valutazione e impulso alle azioni, anche innovative, delle politiche sul verde. La città continuano, non merita di vedere iniziative occasionali scollegate e mai discusse con i e le bassanesi e giustificate troppo spesso con valutazioni botaniche discutibili. Troppo spesso, concludono, si avvertono incuria, disinteresse e danneggiamento di un patrimonio prezioso di tutti. L'ennesimo segno, insomma, aggiungiamo noi, di una discutibile gestione della cosa pubblica.